Nella mattinata odierna a Tacerra, Napoli e Nuoro, militari del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in caccia nei confronti di sei persone emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale di sezione distrettuale antimafia, a carico di altrettanti indagati gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di concorsi di omicidio, detenzioni illegali di armi e ricettazione aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. L'attività investigativa svolta dal citato nucleo e coordinata dalla DDA di Napoli ha consentito in sintesi di documentare l'esistenza e l'operatività di due gruppi criminali, uno formato da Fragola e coagulato intorno a Cosimo Nicolì, classe 77, e l'altro guidato da Bruno Avventurato, classe 75, operante ad Acerra. I due sodalizi in accordo tra loro hanno ideato e organizzato l'omicidio di Pasquale Tortora, elemento di spicco dell'omonimo clan attivo ad Acerra e Casano Nuovo di Napoli, avvenuto il 20 maggio 2020. Nell'occasione il gruppo Avventurato aveva fornito il necessario supporto logistico ai sicari, mentre il Nicolì si era preoccupato di reperire i killer. Per tale assassino il nucleo investigativo Carabinieri di Castello di Cisterna ha già arrestato gli esecutori materiali del delitto in conseguenza dell'emissione di una misura cautelare richiesta dalla DDA Partenopea ed emessa dal competente giudice per le indagini preliminari. Il dubbice movente dell'omicidio, vendicare l'uccisione di Giuseppe Avventurato, fratello di Bruno e già a capo dell'omonimo gruppo di cui si riteneva responsabile il predetto Tortora e suggerire un patto tra i due gruppi camoristici finalizzato ad assicurarsi il controllo congiunto dei traffici illeciti nel territorio di Acerra. Che Cosimo Nicolì nel rapportarsi con i propri sodali e alleati ha speso il nome della famiglia senese originale di Afragola, ora a distanza a Roma e già in storici rapporti con il clan Moccia. Tra i coinvolti nell'indagine vi era anche di Balsamo Pasquale, ucciso il 29 aprile scorso in una sparatoria avvenuta da Acerra tra lo stesso di Balsamo e un 21enne anche gli deceduto in conseguenza del conflitto a fuoco. Le evidenze investigative hanno dimostrato che Pasquale di Balsamo si era prodigato in prima persona per fornire l'appoggio ai killer di Pasquale Tortora.